Era considerato il pilota italiano di motonautica più esperto. Paolo Zantelli, 48 anni, campione uscente di Formula 2, è morto ieri sera per le conseguenze di un drammatico incidente di gara all'idroscalo. Subito dopo la partenza del Gran Premio Città di Milano, il suo motoscafo ha toccato un'altra imbarcazione e si è impennato in aria, capovolgendosi sull'acqua. Violentissimo l'impatto, tanto che dal catamarano si è staccato il cupolino che avrebbe dovuto proteggere il pilota. Zantelli, privo di sensi, è rimasto sott'acqua. Immediati soccorsi sub l'hanno estratto da sotto lo scafo. Dall'ospedale Niguarda in elicottero è arrivata un'equipe medica a supporto di quella già presente sul posto. Zantelli è stato trasportato a San Raffaele dove è morto in serata. Originario di Colorno, nel Parmense, lascia un figlio e la moglie Milena Clerici. Anche lei, ex pilota di motonautica, dagli spalti ha assistito all'incidente in cui ha perso la vita il marito. Una tragedia inspiegabile, secondo il presidente della Federazione Italiana di Motonautica, Vincenzo Iacoianni. Le strutture del motoscafo sono integre, ha detto Iacoianni. Non si riesce a capire cosa possa aver determinato traumi così gravi. 11 titoli italiani, 2 ori europei. Zantelli era in seconda posizione nel campionato del mondo di Formula 2. Alla famiglia, il cordoglio della provincia e del comune di Milano.